Un saluto a tutti voi che partecipate al Ravenna Night Murphine Festival. Sono Yamamura Koji. Vi mando questo video messaggio da Tokyo. Sono molto grato del fatto che grazie alla collaborazione con l'Ottobre giapponese, quest'anno ci sarà uno speciale dei miei lavori. Atamayama, il vecchio coccodrillo, sogni di disegni e parata di sati. Sono quattro i lavori rappresentativi della mia opera, inclusi in questa rassegna. Mi fa molto piacere che tutti gli anni si continui a introdurre la cultura del Giappone in Italia. E poi amo tantissimo il nome Ravenna Night Murphine Festival. Io stesso nei miei ultimi lavori ho usato il sogno come tema portante. In particolare, nel mio ultimo lavoro, sogno di disegni, ho voluto esprimere un appunto di vista asiatico sull'idea del sogno e spero che tutti voi ne gradiate la visione. C'è poi Atamayama, che è un pezzo particolarmente grottesco e bizzarro, in cui ho voluto mettere in immagine la storia di una narrazione del Rakugo. E anche questo mio lavoro l'ho pensato per esprimere un punto di vista della cultura giapponese, della sensibilità. E poi c'è il vecchio coccodrillo, che è basato su un racconto di Leopold Chauveau. E qui potremmo dire che ho ricevuto un'influenza dalla letteratura, dalla cultura francese, e in particolare dalla versione illustrata di questo racconto, che ho conosciuto quando ero giovane, avevo 20 anni, e mi ha molto influenzato e quindi mi ha ispirato per la realizzazione dell'opera. Poi abbiamo Parada di Satie, la musica per balletto composta da Eric Satie, con un progetto di Cocteau e i disegni di Pablo Picasso per i costumi, un balletto mitico di 100 anni fa che mi ha ispirato. Purtroppo quest'anno saremo solo in line, ma spero che riuscirete comunque a apprezzare i miei lavori. Mi auguro che presto questa emergenza coronavirus sarà finita e che sarà per me possibile venervi ancora a trovare in Italia. Un caro saluto a tutti da Tokyo.